eccoci amici bentornati in questo nuovo video di Samplay096 oggi giocheremo a Crash Bandicoot 2 quindi questo è il mostro come si chiama? sono due, il comodo brothers sono i miei coccorilli fratellini andiamole a distruggere mi faremo molto male, mi faremo come una cotoletta vai ci sto gli attacchi diretti non li sconfisgo allora, ti dico con il cuoto grasso tira questo cuoto e girerà quando si ferma devi girarci contro e poi inizia più ai coltelli quando vedi che si ferma devi girare ora lui tira i coltelli e dobbiamo scansarli? si è facile ma pure questo devi scansare sono solo tre colpi ma deve essere abbastanza semplice eh si poi nel terzo ora lui tira i coltelli prima poi si tira il fratellino sia devi scansare i coltelli che tira e che il fratello quindi così è difficile attento diventerà un po' più complicato si ora ci lancerà addosso questo stupido i coltelli pure i coltelli bam al primo colpo vi abbiamo mostrato come si combattono i due fratellini schifosi è stato semplice è stato molto semplice ragazzi se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale sempre 096 e metteteci un bel like io sono papi ciao e ci vediamo al prossimo video ciao